ciao amici di music off oggi parliamo di un chitarrista veramente straconosciuto mi riferisco a Steve Vai un chitarrista di cui si sa già tutto ma di cui si parla sempre molto molto volentieri Steve Vai come sapete era già conosciuto per aver collaborato con Frank Zappa ma poi è diventato uno dei chitarristi di riferimento dopo essersi unito alla band di David Lee Roth nella seconda metà degli anni 80 successivamente agli Whitesnake e dopo aver appunto trascorso una carriera in cui è diventato un caposcuola per un sacco di chitarristi per intere generazioni di chitarristi io ho avuto la possibilità di lavorare con lui per la prima volta nel 1997 in occasione della prima edizione del Dismashow di Rimini in quel caso Steve doveva semplicemente fare una sessione autografi però c'era veramente tantissima attesa per il suo arrivo e infatti ricordo che nel momento in cui questa sezione autografi era iniziata si era letteralmente svuotata tutta la fiera compreso anche il personale degli altri stand perché tutti volevano venire a vedere a toccare con mano questo chitarrista questo alieno della chitarra che così in pochi avevano avuto la possibilità di avvicinare in maniera così concreta ricordo che alla fine della sessione autografi per terra avevamo rinvenuto di tutto da occhiali telefoni cellulari che allora erano belli grossi non tutti avevano un telefono cellulare e c'erano dei buchi proprio nella struttura in legno con cui era stato realizzato lo stand questo per farvi capire la calca che si era creata per andare a conoscere Steve Vai per cui quell'evento era stato assolutamente un grande successo anni dopo avevo avuto la possibilità di lavorare di nuovo con lui l'occasione di una clinica vera e propria che aveva fatto da S Music a Montebelluna a cui ero stato invitato per tradurre per cui per me era stato assolutamente un piacere farlo anche se durante questa clinica Steve addirittura si era preparato una parte non breve stiamo parlando di una trentina di minuti in cui parlava in italiano era un discorso tutt'altro che semplice perché entrava anche nella sfera psicologica e umana del musicista non solo in quella tecnica e per fare ciò lui aveva addirittura ingaggiato un insegnante di italiano negli Stati Uniti e poi durante la clinica aveva un suo laptop e in cuffie sentiva una voce che pronunciava le frasi che poi lui avrebbe dovuto ripetere per cercare di essere il più preciso possibile anche con la pronuncia con gli accenti aveva fatto veramente un ottimo lavoro ed era stato molto molto apprezzato dai presenti durante quella clinica aveva suonato non tantissimo 4 5 pezzi con una strumentazione sicuramente limitata rispetto a quella che usa quando in tour ma comunque aveva richiesto la sua chitarra signature i suoi ampi signature e una serie di pedali che lui vuole sempre assolutamente alimentati a batteria perché dice che comunque anche l'alimentatore meglio isolato introduce sempre comunque dei problemi di ronzi o di fasi che invece con le batterie sono sempre assolutamente evitati per cui uno dei suoi master è proprio il fatto che tutti i pedali vengano alimentati a batteria devo dire Steve Vai ha sempre dimostrato di essere un grande businessman in tutte le attività che ha sempre fatto prima tra tutte la sua collaborazione con i Bannets perché non dimentichiamo che quando nel 1986-87 uscì la prima jam fu una chitarra che cambiò completamente il modo di intendere la chitarra elettrica nel senso che alcune caratteristiche che Steve Vai aveva inventato furono poi prese pari pari da un sacco di altri produttori per la realizzazione dei loro rispettivi modelli mi riferisco ad esempio alla configurazione di pick up humbucker single humbucker o alla cavità dietro al ponte tremolo che permette al tremolo appunto di raggiungere un'escursione indietro mai vista fino ad allora queste sono tutte caratteristiche introdotte da Steve Vai e Steve Vai con i Bannets non ha un interesse solamente su quello che è il suo modello signature bensì su tutta la serie RG che comunque ha ereditato lo shape del body dalla jam che è stato disegnato da Steve Vai di conseguenza essendo la RG comunque la serie più popolare in casa i Bannets potete immaginare l'entità di questo suo rapporto anche economico una cosa che sicuramente ha fatto molto bene sia Steve Vai sia i Bannets stessa assolutamente successivamente ci eravamo incontrati all'hard rock cafe di Venezia dove era stato organizzato un evento con i Bannets e hard rock cafe in cui Steve Vai avrebbe dovuto suonare una sua chitarra signature nuova che in quell'occasione sarebbe diventata usata per una decina di minuti e dopodiché l'autografata questa chitarra è ancora visibile ovviamente all'interno dell'hard rock cafe di Venezia e però quella è stata una giornata abbastanza veloce ci siamo visti ci siamo incontrati abbiamo giusto cenato insieme poi c'è stato questo evento che ovviamente ha avuto un grandissimo successo e ci siamo rimandati alla volta successiva ci siamo poi incontrati un sacco di altre volte durante vari NEM show ovviamente è capitato anche in qualche backstage ad esempio all'ultimo uno degli ultimi concerti di Toto a Milano lui era a Milano ci siamo incontrati in quell'occasione e l'ultima volta è stata durante una clinica a Roma in cui sono andato sempre per tradurre appunto l'evento in quel caso non avevo preparato il discorso in italiano e in quell'occasione ho avuto anche la fortuna di poterci fare una jam insieme assieme ad altri ragazzi selezionati tra il pubblico per cui mi sono tolto anche questo sfizio comunque sia vi invito a leggere l'articolo che accompagna questo video perché lì trascriverò un sacco di contenuti tecnici di curiosità che sicuramente potranno interessarvi per cui vi rimando alla prossima ciao